Grazie a tutti. C'è un progetto realizzato con un braccialetto con la verità per Giuro Leggeni. È partita l'8 maggio e sarà presente in 84 città italiane. L'ultima è il 12 giugno, vero Presidente? L'ultima è il 12 giugno, 31esima edizione. L'altra Italia che va in bicicletta. L'Italia dei genitori, dei nonni, dei figli, dei nipoti. Accompagniamo poi di fatto anche noi il Giro d'Italia. Quindi dove si corre con la bicicletta per il professionismo e per un traguardo importante. Nello stesso tempo la WISP mette sulla bicicletta un pezzo importante e forte della cittadinanza per lanciare un messaggio quest'anno insieme ad Amnesty International per raggiungere la verità sul caso Giulio Reggeni. E soprattutto per quanto riguarda il tema delle città, la vivibilità, la sostenibilità e la messa in sicurezza anche di piste ciclabili e di zone riservate agli stessi ciclisti. C'è anche un progetto legato a Bici in città, scusi, al progetto della sicurezza stradale sulle ciclabili perché lavorate anche con la polizia stradale. Tra l'altro la polizia stradale è stata ospite qui da noi e con il progetto che hanno di Bici Scuola, quindi a maggior ragione Bici Città sceglie anche di fare un progetto legato alla sicurezza stradale. Lo portiamo anche in rapporto con le scuole perché con la polizia stradale abbiamo una situazione e un'intesa da molti anni a questa parte. Vogliamo dare un segnale soprattutto di come si usa la bicicletta. Non diamo per scontato che il messaggio della vivibilità e della sostenibilità possa poi permettere al ciclista di potersi muovere soprattutto all'interno delle città in un determinato modo, ma sempre in termini di sicurezza e quindi oltre a promuovere ulteriori piste ciclabili chiediamo alle istituzioni locali nel rapporto con la polizia stradale che quelle piste ciclabili siano messe in sicurezza perché spesso e volentieri dentro i piani regolatori rischiamo di vedere invece delle piste che sono improvvisamente interrotte o che non hanno i livelli di sicurezza che invece meritano. Ecco, rispetto a questo ancora per il trentunesimo anno la WISP lancia questo messaggio e ripeto, mette sulla sella un'altra Italia. Sempre più Unione Italiana Sport per Tutti, no? La WISP, lo diciamo, c'è anche un hashtag Bici in Città così possono interagire, visto che tanti amici ci scriveranno. Lei la sta seguendo il Giro d'Italia, Presidente? Lo seguo non tantissimo perché io venendo dalla pallavolo sono sempre legato molto ai giochi di squadra e della palla però insomma il ciclismo e il Giro d'Italia è uno di quegli sport che richiama molto la popolarità sportiva e quindi mette in campo un intero paese. Però oggi ha scelto la tappa giusta, Presidente, per stare con noi. Duelli titanici anche oggi in questa frazione, Presidente Manco stiamo per andare in diretta. Quando è il prossimo appuntamento con Bici in Città? Il prossimo è domenica prossima, 22, tra l'altro qui vicino Venezia a Spinea e Mirano ci saranno due iniziative Reggio Emilia fino al 12 di giugno a Lavello chiuderemo a Potenza Previsioni, 40.000 persone da mettere in sella e da far pedalare speriamo di superare anche diciamo le previsioni. Grazie, grazie davvero Presidente Vincenzo Manco e a Bici in Città.